Ah! Ma tu... ma tu guarda... E chi... e chi si ricorda ora? C'era una pitarella che doveva... Mi prego... Doveva essere a livello 7, ma qui non trovo un accidente. Ma come diavolo l'hanno montato? Ehi, eccola lì, l'ho beccata! Zitto tu, eh? E anche tu cerca di fare la brava con papà. Zitto! Ma cosa succede? Io... io... non capisco. Non c'è più energia. È gas che ha staccato la spina! Ha funzionato! Ce l'ho fatta! Eh! Trovata! L'ho trovata in mezzo a un miliardo di viti! Io... Che cosa hai trovato? Io... Veramente io... Dammi quella vita! Questa vita? Quella... Subito! Sì, domani! Dai, sputa fuori! Dammi quella vita! A costo di... Dio... Un... Uuuh! Un... 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 ...buole vivere? No! Fatelo fermare! Non posso! È fuori controllo! Come? Si è staccato dove prende energia? Si sta autoalimentando? Perché vuole vivere? Ecco qua, Ricci. Andremo ad un solo. Ci andremo domani. E poi c'è da vedere anche... Mamma, paura! Ma perché non torna la luce? E' il pianto, brutto bestia! Fermati! No! Fermati! L'ho sistemato! Non ci lasciare qui! Superman! E' chiaro. Ha incanalato energia qua e si alle attivando i vettori di forza. E' così. Arrangati, sgrinchi, e io taglio la corda. Ehi! Aspetta un minuto. Ragazze! Ragazze, venite giù di lì! Aiuto! Fatti passare! Dai, corri! Aiutami! Aiutami! No! Aiuto! Aiuto! Rena! Sorellina! Oh, mio Dio! E quello cos'è? Lora, lei! Aiuto, no! Sorellina! Sono io, tuo fratello, pianto! Aiuto! 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 Superman! Aiuto! Dammi una mano, che sto giuro! Liberami! Fammi scendere di qui! Aiuto! Attento! Oh! 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 Oh!